Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di The Brant Ok, dove siamo? Dal mosso Quindi se io andassi un po' avanti e parlassi con lei O lui, no, lei sembra Ma quello che ho visto Cadaveri Così tanti cadaveri Quella povera ragazza proprio come me Ma allora cosa? Perché non ricordo nulla? Ma allora, vabbè, dice là Dire sempre le stesse cose Io volevo andare dal tipo che mi ha detto Che se avessi trovato la testa Ma la testa non l'ho trovata Dove era? Questa è una bella domanda Diciamo se magari era da queste parti Sì, è lui Ah sì, giustizia è fatta La mia eterna caro di riconoscenza Oh, ho trovato qualcosa Cristallo Ma che cazzo sarebbe sto cristallo? Oggetti Certi chiave Blocco qui, falco 3 Non so questo cristallo Cosa effettivamente sia Vediamo un po' Questo Vendi, cristallo naturale Ah, questo è dopo Solo vendi Costoso Brilla al sole Questo è proprio da vendere Perché è scritto vendi tra parentesi E anche questi a quanto pare È interessante Forse così possiamo fare molti più soldi Di quello che pensassi Bene La nostra spada è bella messa E quindi adesso noi dobbiamo andare In teoria Molto giù Dobbiamo andare tanto giù Sto guardando Quindi Il primo Il secondo Il secondo Sì, il secondo Ok, il secondo dovrebbe essere Allora, salviamo Perché è importante Oh, salve Mi dice qualcosa adesso Non hai paura di me? Bene Io non ho qualcosa che... Ok, cosa mi vendi? Tu già? Eh, pozioni mi tocca prendere ragazzi Perché ne ho usate troppe Questo costa 15.000 Eh, facciamo queste Cazzo, 5.000 però Facciamo così, va Basta, eh, perché se no Cioè, anche se no È qui che devo andare Vediamo Sì Siamo vicini Allora, prendiamo questo Qui c'è sempre questo cazzo di cosa Mi ha fatto andare Ho avuto culo O non lo so Ok Non ho capito Come ho fatto Voglio capire Perché se no Se non capisco Come cacchio ho fatto? L'avete visto nel video Ma non ho capito neanch'io Ah, allora si faceva Porca Miseria Io mi sono scervellato Ho detto Ma che cazzo Chissà cosa dovrò fare Sì, ma era un salto Veramente Molto difficile Allora Se vado su No Devo andare di qua Ah, questi si rompono Bene Vedi, è interessante Che prenda E le cose che si possono vendere Non lo so più Proprio Ok Quindi presumo ci sia Molta roba da vendere Mamma mia Che brutta Musichina Cioè Di sottofondo Di background Allora Dove Devo andare Giù Ah, c'è solo quella strada Ecco Adesso Adesso Vai Ok Beh, va bene Mazza Mi hai fatto Tanto male Grazie Grazie Mamma mia Sono circondato Vediamo se riusciamo Ok Vai Così Togliete tutti i due Dei baroni Ecco qua Bene Dovrebbero essere finite Ottimo 424 di male In effetti L'ho usato tanto Di male Allora Salviamo E adesso Abbiamo dato un po' di roba Oh ma qui c'è qualcosa Perfetto Volevo vedere se effettivamente Adesso posso Vendere Qui dove si va Si va su Noi no C'era il vendor Mi interessava in modo particolare Dove cacchio sono i vendor Ecco qua Questo qua Ecco qua Vediamo un po' No lui Ok No cavolo L'ho fatto di nuovo Mi ha fatto di fare questo Questo mi vende Solo Però se provo a vendere Consumabili Non sono consumabili Ma sono materiali Mi dice Vendi Ecco a parte 450 A me non è tanto 280 1000 Questo 1000 Ah questo Sono già 10.000 quasi Interessante 600 Guardate 850 Beh Abbiamo qualcosina Che vale Vediamo Vediamo Vendi Questo qui 2250 E ne ho 3 10.000 Oh ma Alla fine Riusciamo ad arrivare Un bel cozzetto Volendo Adesso Non mi interessa In questo momento Qui non posso entrare Devo ritornare Tutto di là Ok Eh Signorine salve Siamo pure E siamo tutti a posto Vediamo un po' Non devo prima tornare Trovare il bacio Ma scusa A te E adesso mi decidi Andare di là O non ho visto io O sono ricoglionito Perché insomma Ho qualcosa di rileo Da fare Per me è dal tipo Da ragazzino Qui dentro Tu cosa facevi Già Mi mettevi Ah queste cose Improponibili Va bene Tu invece Hai da mangiare Presumo Ma tu proprio Stronzo e basta Ecco Ragazzino Di qualcosa Kandme Ricordi cosa ti ho detto Hai fallito il tuo compito E ti è stata Salvata la vita Che hai da dire In proposito Quindi E questo Che ti ho detto Vero E Suppongo Lei abbia Una storia Differente Da raccontare Beh Non sprechi fiato Ho smesso Di crederle Kandme Mi spiace Che tu sia rimasto Coinvolto In tutto questo Basta così Andiamo Eh ma Lui ha I prosciuti sugli occhi E quindi Succede così Lo squaccio di regno Di master È stato bloccato Va bene Mi piacere di saperlo Insomma E quindi Adesso possiamo Finalmente andare via Da questo posto Che Non ha niente Da offrirci A parte le due signoline Qui però Insomma Non penso che Siano disponibili Va bene Ci sono due posti Adesso devo vedere Eh la storia Stai facendo Intricata Eh Di costanza Ok risalviamo Perché non voglio Di fare tutto Dandindandu Eccoci qua E vediamo Che succede Quindi abbiamo Le nostre Eh Abbiamo Il ragazzino Dietro Quindi Vabbè Vediamo un po' Adesso qui In una zona E dovrebbero Essere Anche Più forti E spero di trovare Armi più adatte Oh Cavoli però Bello Mi ha dato tanta soddisfazione Sì Ok Questi corvacci Non è che Mi servono Più di tanto Ah però Non stiamo facendo Poco danni Eh Oh bella Tanta roba Una spada Una spada Allora Equipaggiamento Arma Vediamo questa spada Perché ricordiamoci Che la nostra è potenziata E non ho speso Tanto di soldi 172 127 Non ha niente La prima spada Donata Da cavalli Le fresco di inventario Dunque Mi dava circa Metti 20 Quindi Farebbe 14 Eh Potenziata 1 2 3 4 volte Quindi la cinquantina In più Più o meno O fanno Più o meno Uguale O comunque Un po' di più Dando che questo Ha un dot Andrei tranquillo Allora Torniamo indietro Assolutamente E andiamo giù Velo su Quindi di qua No di qua E quindi a est Oh aspettate Andiamo a essere un po' curioso Di vedere un po' come va A finire questa storia Oh salve Ok Perfetto 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 Oh grande così Bellissimo Eh le copie non sono male Speriamo di prendere delle nuove Dopo rimana Comincia A scasseggiare Le potenziamenti Tutto il resto Mi ho spesi Abbastanza Spero che Di trovare pozioni O qualcosa Che Qualche modo Me ne dire Ok Accampamento Abbiamo Molte strade da fare Riposiamoci un po' Bene Portami Pensa Cosa vuole Oborn Cosa sta Pianificando Kandame è ancora qui Che l'abbia mandato A sovegnarmi Cosa stia Credo stia Cercando qualcosa Che faccia Da chiave Per qualche posto Forse è questo Che vuole Vuole me Una custodia Della runa viva Non posso Credere Nella Sua Trappola Ma cosa mai Potrebbe fare Col maccioso Ehi Perché mi stai ignorando Cosa Ah scusa Non stavo ascoltando Meglio per te Se non provi A fare La furba Sappi Che ti tengo d'occhio No Dico io Cospirare Mi hai in pugno Non c'è nessuna Cospirazione qui Bene Mettiamoci In questi termini Allora Quindi Sono una Fuggiasca Adesso Illumina Mi Kandame Che crimini Ho commesso C'è una custodia Della runa Ah beh allora E quello è un crimine E cosa mi dici Di te Di Oborn Dell'Accademia I crimini Dei potenti Non possono passare Inosservati I custodi Delle rune Sono assassini Terroristi Difendersi Non è Né assassino Né terrorismo I custodi Delle rune Vengono Perseguitati Perché non vogliono Condividere la loro Conoscenza Con l'Accademia Quello che facciamo Si chiama Sopravvivenza Ma Hai ucciso Delle persone Chi ha cercato Di uccidermi Non ho diritto A sopravvivere Non mi è permesso Esistere Ma Aia Una volta Fui catturata Dalla tua Preziosa Accademia Mi fece Un regalo A questo marchio Ero Poco più Di un animale Per loro Bugiarda Sei una bugiarda Hai visto Come mi ha trattato Olbo Un diamine Ti è stato ordinato Di fare lo stesso Pensa Con la tua Testa Affidati Al tuo giudizio Io so Chi sono E cosa voglio Io Io non Eh Kande me sembra Ignorare I veri Intenti Dell'accademia Ma ha ancora Tempo per liberarsi Dalle loro Ghirinfie E se solo Si mettesse Male Potrei non avere scelta Hai detto Andiamo Cosa Ah Sì certo Chissà se si Redimerà Oppure no Oddio no Cucinare No grazie Salva Ok Andiamo Avanti Quindi Bene Vediamo Un pochino Speriamo di trovare qualcosa di utile E i soldi ancora non so bene o male Come impiegarli perché non è che abbia trovato qualcosa di veramente utile Anche se costoso Tutta cosa bene o male che sono tranquillamente reperibili in giro Quindi per il momento Niente Abilità Cerco di sbloccarli più che posso anche se molte sono legate a quelle abilità Che ha la furia insomma Però non mi interessa prendere perché ho molte abilità che se ho la furia piena Mi da bonus di attacco Quindi Ok Ok Vai così Oh grande Vai Eccoci qua Aspettiamo E attacchiamo Mamma mia Sono tanti Sono tanti Aspettiamo piano Vi facciamo fuori tutti Non vi preoccupate Insomma sì Eccoci qua Aia cosa mi ha dato Elettricità Eh non posso farci niente C'era qualcosa qui Sì Allora Due strade come al solito Una che va a est E una che va giù Io andrei a est Che secondo me è quella che va giù Che porta al Eh infatti Al che Ma questi dupolini piccolini piccolini Insieme a questi cagnoloni grossi grossi Ok Ovviamente devo salire Ma prima volevo vedere Cosa c'era qui Qui Eh andiamo qua Vediamo Sono sceso Ma è una strada senza uscita Quindi Ovviamente ci sarà qualcosa Sì Dei papagali Quindi devo pagare I pipistrelli Che ero un po' rossotato Ok Beh sono facili da battere Però Sono una palla Lo stesso Vediamo Non c'è niente Molto strano Va bene Vediamo cosa possiamo fare Di qua Proviamo di qua Voglio vedere E capirci di più Che non è molto chiaro Per il momento Cavoli È sopravvissuto Un topolino Un miracolo C'è una cassa di sopra Ok Cosa ha chiamato I suoi amici Però Finalmente Una bella pozione Ah Di forza La pozione Interessante Ok Il problema È che mi sa Che non posso scendere più Vabbè La lutterò poi Mi fa scendere giù È un bel problema Ah Sono sceso Voglio andare a vedere Un attimo In fondo Ma Cosa sia qualcosa Qui effettivamente Ah Vediamo eh No È sempre Il solito posto Però non ho capito Come accedere Ok Come accedere Di sopra Una pera In verità eh È sempre comodo Una pera Però insomma Ok Ok Andata Dovrebbe essere questa La strada Perfetto Qui Però qui c'è qualcosa Vorrei assolutamente Capire Cosa è C'è qualcosa di buono Infatti I pistole insopportabili Esatto C'era qualcosa di buono Chiametoro Interessante Quindi potrò In qualche modo Aprire un fortiere Che troverò Spero Quindi qui Si va Ottico Si salva Bene Dopo faremo Tutto quello che manca Mi raccomando Non vi preoccupate Vediamo un po' Eh Ci sono tante strade Va bene Ahia Cattivo No Ok Eh Qui ci sarà da divertirsi Allora Una che va di là Oh ragazzo C'è ragazzo Una che va di là E un'altra da sopra Però qui Quando si sale Di solito Dicevo C'è qualcosa Perfettico Bene Non penso ci sia altro Però Sotto l'aria Non fa certo male Beh Un altro Per un colpo Una cosciotta di pollo Non mi dispiace Lì si può andare E qui si può andare Ok Cavoli Eh Strana Che Oh Quindi non tutte le cose Sono visibili Salve Lei Proprio non mi piace Lo sa Ok Perfetto Questa bene Mamma mia È trovata Chiave dorata Oh Che bella cosa Mi sono tanto felice Cavolo Avete visto Che l'esplosione Ha pagato Stavolta tantissimo E ho anche 1500 Che è pochissimo Di mana Ok E adesso andiamo qua Ahia Sono tante botte Eh C'è tanta strada Che devo controllare Vediamo di non aver lasciato niente Vabbè che ti ho portato lì indietro Ahia È brutto e cattivo T'aveva detto Ma nessuno Ma sei proprio uno stronto Non brutto e cattivo Mi sono ralentato Non posso farci molto Ok Peccato Non si possa fare un preset Di armi E switchare Nel caso di bisogno Magari con quella di fuoco E quella di ghiaccio Non ve lo peccato Vedete come vado piano Ok Ok Vediamo un po' Ok andiamo di qua Ahia cattivi Non c'è niente Beh una cosciotta Mi fa sempre piacere Ok Perfetto E qui si va Probabilmente sotto c'era qualcosa Ma sicuramente sotto c'era qualcosa Però devo fare le cose con calma E un po' alla volta Se no Non ci capisco niente Ecco adesso comincia a ralentarmi Come proprio Ma già ralentato Mi ha preso una volta sola Eh adesso c'è questo qui del Che è Dove cavolo si è andato No niente Non c'è verso Non c'è proprio verso Perché ce l'ho fatta Questa è un'armatura Una spada Ma addirittura Questa non me l'aspettavo Allora equipaggiamento Arma Vediamo un po' Un altro fiocco di neve Questo ad esempio A rango 89 Cioè Facciamo e dico Questo qui a rango 3 Fa 89 Con una sigilla Ok Questo qui A rango 2 Fa 93 E questa qui fa 170 Però Eh Questa può essere interessante Eh Per adesso Per adesso niente Per adesso non posso fare molto Va bene Andiamo avanti Vediamo un po' Cerco di fare tutto Dopo torno indietro Perché c'è troppo roba Che ho lasciato indietro E quindi mi serve Oh Il tipo Stiamo avvicinando Ora riposiamoci Sì Quindi Da quando ho capito Da quanto ho capito Stai studiando le magie curative Io voglio diventare un mago bianco Ma per te Non sono sicuro della mia capacità di aiutare gli altri Puoi Chiunque può Puoi Chiunque può È normale Nutrire dei dubbi Sei ancora giovane Ma non mi piace Essere trattato come un Non ci vorrà molto Crescerai E lo proverai Lo proverai Dimostrando le tue reali capacità Ho le mie teorie E non hai il diritto Di criticarmi Eh Ma certo Credo sia ora di andare Vediamo poi Mia signora Come vanno le cose Candem La custodia delle lune Ti dà problemi No mia signora Va tutto bene Siamo quasi arrivati a destinazione Se mi stanco C'è qualcosa che non va Mia signora Perché non possiamo liberare La custodia delle lune Non preoccuparti di questo Concentrati sulla tua missione E non distrarti Ma I custodi delle lune Sono criminali Più pericolosi E vanno puliti Senza pensare due volte Pensarci due volte La loro stessa esistenza È una minaccia Per le nostre vite Ma abbiamo promesso Candem Tu sei il mio aprendista Non dimenticarlo E non mettere in dubbio Le mie parola Mi perdona Mi perdone È solo che Tu cosa Non credi al mio giudizio No mia signora Io credo in lei Bene Oh Candem Il mio caro Candem Quando tutto sarà finito Capirai che ero nel giusto E faremo Ritorno all'accademia Seguendo i miei ordini Sono certo che diventerai Un grande mago Molto presto Grazie Mi farai da assistente Assistente E lavoreremo insieme Nella mia torre Le nostre ricerche E scoperte Zitteranno l'ignoranza Del gran Del gran Oretto Farò del mio meglio Sei il mio studente Prediletto Candem Spero di Vederti presto Grazie mia signora Parleremo ancora Sì signora Ok Allora se trovassi un punto save Non mi dispiacerebbe Non mi dispiacerebbe Ma questo E dovrebbe essere un punto save Pig Che cazzo Dai green peach witch Vot Non capisco un cazzo Vabbè Andiamo via Ehi che ti serve Sicuramente posso procurartelo Eh le pozioni Mi servono Quindi Prendiamone Dieci Eh dieci Mila gold Pazienza E altro Non penso che sia Fantastico Sì tanti saluti Fatemi vedere Mi dice che c'è un punto save Ma io il punto save Non lo vedo ragazzi Se ne sarei cercato io Vediamo Non c'è Questo è il solito fabbro La solita venditrice Oh Non riesco a vederlo Forse più avanti Vediamo un po' Eccolo qua Perfetto ragazzi Siamo al punto save Io Mi invito Come al solito Lasciate un commento Se mi piace E fammi sapere cosa ne pensate Per adesso Vi saluto in cima Ciao ciao